Ciao, mia moglie ed io. Abbiamo entrambi 50 anni. Sono un agente immobiliare commerciale e mia moglie lavora per il comune. I nostri figli sono all'ultimo anno di college. Mio figlio sta conseguendo una laurea in ingegneria di rete e mia figlia in giurisprudenza. La nostra relazione ha avuto alti e bassi e mia moglie aveva molti debiti sulla carta di credito quando l'ho incontrata. Per suo merito lavorava due lavori per saldare il debito e mi sono rifiutato di sposarla fino a quando non avesse estinto parte del debito. Ho aiutato a pagare gli ultimi diecmi del debito della carta di credito e vento anni fa ci siamo sposati. Aveva anche un problema con l'alcol quando l'ho incontrata ma stava lavorando su questo aspetto. Ha partecipato alle riunioni di alcolisti anonimi oltre a lavorare in due posti. È stata sobria per quasi ventun anni e ha fatto un lavoro fantastico nel superare l'alcolismo quando abbiamo avuto i nostri figli. Inizialmente era una mamma casalinga e potevo permettermi di prendersi cura di lei e dei bambini e questo è andato avanti per circa i primi dieci anni del nostro matrimonio. Quando i bambini avevano i sinanni ha iniziato a lavorare e abbiamo testato un po' le acque per vedere se potevano stare da soli ma non spesso. Avevamo ancora una babysitter quando avevamo le nostre serate e altre occasioni. Avanziamo di circa tre anni quando i bambini avevano circa 14 anni. Ho notato che mia moglie stava diventando un po' distante quindi l'ho affrontata immediatamente. Non nascondeva nulla e mi ha detto che la sua migliore amica aveva ricominciato a bere e questo la disturbava. Quando pranzava con la sua amica questa cercava di convincerla a ricominciare a bere e lei le disse di non farlo. Litigarono e la sua amica le disse che era diventata noiosa. Mi disse che non era tentata perché era arrivata troppo lontano per rovinare tutto. Ora ciò che mi perplime è che la sua amica la supportava al 100% quando andava alle riunioni di AA e io non potevo esserci. Si supportavano a vicenda. Non uscì o parlò con la sua amica per circa sei mesi. Dopo quello un giorno quando tornai a casa dal lavoro mia moglie era già a casa. Indovina chi vidi seduta sul divano? Era la sua migliore amica. Abbiamo chiacchierato mentre mia moglie cucinava e lei si scusò per quello che aveva fatto per aver cercato di far bere di nuovo mia moglie. Dopo cena ci sedemmo tutti, parlammo e guardammo un film. Ma notai mentre eravamo seduti che mia moglie e la sua amica erano sedute vicine quasi in grembo l'una all'altra. Non dissi nulla a mia moglie dopo che la sua amica se ne andò. Mi limitai a prendere nota mentalmente. Avanziamo di circa un mese e mia figlia torna a casa per il fine settimana e passa del tempo con sua madre. Andarono a pranzo, al cinema, da Starbucks e altre cose. Ma mentre erano insieme mia figlia mi mandò un messaggio chiedendomi cosa ci fosse che non andava con la mamma. Pensai perché mia figlia farebbe una domanda del genere? Mi disse che la batteria del suo telefono era morta e aveva chiesto a sua madre se poteva usare il suo telefono. Mia moglie quasi impazzì. Fui completamente sbalordito dall'affermazione di mia figlia e mi chiesi perché mia moglie fosse così agitata, perché sua figlia voleva usare il suo telefono. Cercai di non pensarci troppo. Quando tornarono a casa, mia figlia mi diede quella occhiata, come a dire che diavolo. Quando mia figlia se ne andò la domenica, chiesi a mia moglie perché si fosse agitata quando nostra figlia voleva usare il suo telefono. Beh, la scusa che mi diede mi sembrò una totale cavolata. Mi disse che aveva alcuni documenti privati della città sul suo telefono che non voleva che lei vedesse. A un punto mia figlia tende a ficcare il naso, ma ancora non suonava credibile. Non pressai ulteriormente mia moglie, lasciai perdere. Avanziamo di qualche mese. Iniziai a notare che mia moglie usava molto più del solito il suo telefono, ma non dissi nulla. Mia madre e mio padre mi insegnarono molti anni fa di ottenere prove prima di fare accuse. A suo merito la nostra vita sessuale non era diminuita. Avevamo i nostri normali incontri sessuali circa tre volte a settimana. Un giorno, mentre ero al lavoro e lavoravo fino a tardi, era oltre le 23 quando stavo finendo e mia moglie era libera. Mi disse che avrebbe passato la serata con la sua amica e mi disse anche dove sarebbero state, promettendo di tornare a casa entro mezzanotte. Le dissi di stare attenta e di non fare stupidaggini. A lei non piacque l'ultima parte, quella di non fare stupidaggini, e mi disse che le ricordavo suo padre, ma non le risposi. La mezzanotte passò e lei non mi diede notizie. Verso le 4 e 13 del mattino ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto. Quest'uomo mi chiamò con FaceTime e mi mostrò una foto di mia moglie e della sua migliore amica, ubriache e svenute sul letto. Mi informò che aveva discusso con la migliore amica di mia moglie riguardo al bere e al fare casino. Quest'uomo era in gamba. Mi disse che l'avrebbe riportata a casa perché doveva guidare per andare al lavoro e la nostra casa era sulla sua strada. Era il fidanzato della migliore amica di mia moglie. Quando mia moglie tornò a casa, la rimproverai e le dissi che doveva mettersi in riga. Era semi-sconnessa e si scusò più volte. Non poteva andare al lavoro perché aveva la sbornia in un giorno feriale. Dopo quella notte, la nostra vita sessuale peggiorò notevolmente. Non sapevo perché, ma intendeva scoprirlo. Una sera, quando tornò dal lavoro, era completamente assorta nel suo telefono. Mi mostrò alcuni video di TikTok e Instagram, ma non mi interessavano. Questo andò avanti per circa una settimana. Poi, una sera, mentre ero nell'ufficio di casa a esaminare alcune proprietà commerciali, venne da me e mi disse che sarebbe uscita di nuovo. La guardai e dissi, davvero? Dopo quello che è successo l'ultima volta, stai uscendo di nuovo? Lei rispose, guarda, mi scuso per quello, e se ne andò. Interrompì quello che stavo facendo e chiamai un amico. Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Dopo la conversazione, entrambi concordammo che dovevo iniziare a indagare. Fece un punto valido. In tutto il tempo che siamo stati sposati, non è mai uscita in un club senza di me. La prima cosa che feci fu controllare i registri delle chiamate, ma non vidi nulla di sospetto. Riconobbi i numeri della sua amica, di mia figlia, di mio figlio e dell'uomo che aveva riportato mia moglie a casa. Quella mattina, successivamente, ricercavo come tracciare mia moglie senza che lei lo sapesse. La mia prima ricerca fu trova il mio telefono, ma non volevo avvicinarmi al suo telefono. Gli investigatori privati nella mia area erano un'ultima risorsa, quindi optai per un localizzatore GPS. Ci vollero due settimane dal momento in cui ordinai il localizzatore, installandolo e scoprendo dove andava mia moglie. La prima volta che la seguì, la seguì fino a casa di un uomo. Non so chi fosse, non era un collega di lavoro. Si abbracciarono e si baciarono e mi assicurai di ottenere una foto e un video. Non uscì per almeno due ore. La seconda volta che la seguì era con la sua migliore amica. A quel punto ero al di là della rabbia. Dopo che entrarono, provai ad entrare nel club, ma i buttafuori non mi lasciarono entrare. Dissero che era solo su invito. Implorai spiegando la situazione, ma non cedettero. Disse a uno degli uomini, per favore, quella è mia moglie là dentro. Poi uno finalmente disse, signore, questo è un club scambista. Mi dispiace, non possiamo farla entrare. Poi fece la cosa più strana. Tirò fuori un biglietto da visita con l'indirizzo del club scambista e mi disse, se forse avrei potuto usarlo in qualche modo. Ero completamente confuso, ma una volta passata la confusione, tornai a casa arrabbiato come non mai. Per prima cosa, mi misi al computer e cambiai alcune cose finanziarie. Verso le 2.17 del mattino, mia moglie entrò barcollando, ubriaca e vestita come una prostituta. Ero a letto quando entrò nella camera da letto e cercò di fare sesso con me. Le dissi di andarsene. Quando partii per il lavoro il giorno seguente, lei dormiva ancora. Non la svegliai, ovviamente. Mentre ero al lavoro, ricevetti una serie di messaggi di testo offensivi e non risposi. Durante la mia pausa pranzo, chiamai alcuni avvocati divorzisti per discutere come sarebbe stato un divorzio per me. Viviamo in uno stato con divorzio senza colpa, quindi il fatto che avessi foto e video non mi avrebbe aiutato in quel momento. Volevo solo uscire. Non mi importavano gli asset. Aveva abbracciato e baciato un altro uomo davanti a me ed era membro di un club scambista. Chiesi il divorzio quel giorno e, prima che mia moglie tornasse a casa, trasferì tutto nella camera degli ospiti. Ero in attesa di una mia moglie, ma non tornò a casa. Quella notte andai a letto verso mezzanotte e lei non era a casa. Indovina un po'? Era in prigione e l'avevano fermata per guida in stato di ebbrezza. Tornò a casa il giorno seguente e la sua amica la pagò. Voleva parlare con me, ma le dissi che non volevo parlare con lei. ero indifferente verso di lei. Dopo tutto ciò che avevo fatto per lei, mi aveva spezzato il cuore in un milione di pezzi. Entrò nella camera da letto piangendo. Abbiamo vissuto in camere separate per sei settimane e, quando ha ricevuto i documenti del divorzio, mi ha mandato un messaggio dicendo che era dispiaciuta e voleva un'altra possibilità. Le dissi che l'avrei sempre amata, ma non come mia moglie. Andò all'attacco, dicendo a tutti che la maltrattavo, che ero abusivo e che avevo avviato il divorzio. Tutte queste assurdità. Ma io mi difesi subito con foto e prove video di come mia moglie di 22 anni mi avesse tradito, entrando in un club scambista e baciando un uomo sconosciuto. Ogni singola persona che mi aveva attaccato si scusò. Il divorzio fu rapido. Dividemmo i beni a metà. Lei non ricevette alimenti a causa del denaro che guadagnava con il suo lavoro, ma dovevo dividere le chittà della casa quando veniva venduta. Quando nostro figlio e nostra figlia lo scoprirono non lo seppero da me. Non so come l'abbiano scoperto o chi gliel'abbia detto. La presero male e hanno alienato la loro madre. Per ora questo è tutto quello che ho. La mia ex moglie non ha smesso di contattarmi e io non rispondo ai suoi messaggi. Se avrò qualche aggiornamento, manderò una email al canale. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Ciao a tutti. Benvenuti nel canale Confessioni Interessanti. Io e mio suocero siamo partiti per un viaggio di lavoro. In realtà si trattava di un evento frequente, ma questa volta l'ho ricordato a lungo. Parliamo di tutto con ordine. Sono stato fortunato ad avere parenti da parte di mia moglie. Non erano, per usare un eufemismo, poveri. Sono stato fortunato perché mia moglie non era esigente nei confronti della mia borsa e perché, grazie a mio suocero, sono riuscito a ottenere un lavoro piuttosto prestigioso e ben pagato. Probabilmente vi chiederete cosa ci trovi in me una ragazza di una famiglia ricca che praticamente non conosce i problemi economici. Io stesso non lo so. Forse non sono una persona cattiva e di bell'aspetto, senza falsa modestia. Nella mia vita passata lavoravo in un fitness club come master trainer dove, di fatto, ho conosciuto la mia futura moglie. Per molto tempo l'ho allenata prima in palestra, poi l'allenamento è diventato ancora più fitto e intenso. Così abbiamo iniziato a saltare le lezioni insieme e a tenerci in forma a letto. Ma la mia storia non riguarda mia moglie e nemmeno mio suocero, bensì mia suocera. A quanto pare, da giovane era proprio come mia moglie, una ragazza bella e semplice, solo che non era nata in una famiglia ricca e aveva sposato con successo un gangster di successo che molto presto si è ravveduto, ha legalizzato la sua attività ed è sopravvissuto ai duri anni 90. Il suocero è cambiato da allora, ma la suocera no, è rimasta quella sciocca ragazza di vent'anni che, in un attimo, è diventata ricca. Solo che ora, nel quinto decennio di vita, non si era ancora svegliata. Non aveva imparato a gestire correttamente il denaro, ma era rimasta la stessa spettacolare bellezza. Sapeva come prendersi cura di sé naturalmente, ma non c'è da stupirsi se nei saloni di bellezza, nei centri di abbronzatura e in altre istituzioni, spaventose per gli uomini, passava la maggior parte della giornata, mentre il resto del tempo socializzava con gli stessi amici patetici e cercava di convincere il marito a darle più soldi per il suo divertimento. A quanto pare, il suocero era soddisfatto di questo stile di vita. A casa, aspettava sempre una moglie soddisfatta con un sorriso artificioso sul volto, che aveva solo bisogno di essere nutrita con il denaro. Aveva scaricato con successo la figlia su un ragazzo poco esigente, cioè me, e lui stesso si godeva il modo di vivere e lo stile della sua vita. L'unica cosa che a volte mi chiedeva di fare era di tenere d'occhio la moglie in sua assenza, affinché non facesse nulla di male. C'erano solo dei precedenti in cui lei organizzava una festa nel loro cottage, in cui i suoi amici imbecilli distruggevano mezza casa. Oppure la donna poteva fare una serie di altre stupidaggini che per me, come parente, erano più facili da gestire. E il suo autista e la sua guardia di sicurezza, Sara e io, eravamo in buoni rapporti. Entrambe capivamo perfettamente perché eravamo finite in una famiglia ricca, ma non davamo mai l'impressione di non essere soddisfatte di qualche caratteristica del carattere delle nostre metà. Questo stato di cose andava bene a entrambi e così, ancora una volta, mio suocero, mentre era fuori città, mi chiese di controllare come stava. Come sta mia moglie? Non ha fatto qualcosa nel suo stile? Mi disse. Ogni volta le mie scuse per andare a trovare mia suocera suonavano sempre più ridicole, ma sia che la donna non fosse interessata, sia che credesse a tutte le che mi inventavo al volo. In ogni caso, non c'era alcun problema con queste spiegazioni. E ora, quando feci un cenno alla guardia ed entrai in casa sua, dissi, William ha detto che c'è qualcosa che non va con il vostro tubo in cantina. Mi ha chiesto di dare un'occhiata. Sbottai, non credendo alle mie stesse parole. Ehi, Dylan, certo, entra pure. Tanto mi annoio qui da solo, quindi perché non vai da qualche parte a divertirti? Sono un po' annoiato da tutto. Ho questi che mi seguono dappertutto. La donna fece un cenno in direzione della porta, dietro la quale rimanevano in servizio il suo autista e la guardia. Questo è l'unico posto dove posso rilassarmi, fare quello che voglio. E ho sempre la sensazione che ci siano telecamere nascoste ovunque. Tutto è possibile. Sorrisi e non cercai di dissuadere mia suocera. Vuoi mangiare? Non mi dispiacerebbe. Accettai. Non avevo mai mangiato male in questa casa. Parlammo a lungo di argomenti distratti, dopodiché dovetti ancora fingere di essere molto interessata alle tubatur del seminterrato. Mi alzai da tavola e scesi le scale. Il seminterrato di questa casa di lusso era a due livelli. Al primo c'erano le sale di intrattenimento, una sala da biliardo, un tavolo per il poker e altri giochi d'azzardo e persino un mini cinema. Il locale caldaia e gli altri impianti fognari erano ancora più in basso, ma anch'essi erano tenuti completamente puliti e il mio telefono e brontolai. Qui non c'era segnale, il che significava che avrei dovuto annoiarmi per circa dieci minuti senza internet. dovevo almeno far finta di controllare qualcosa, ma dopo cinque minuti non ce l'ho fatta più e sono salita. La vista dello splendido tavolo da biliardo mi ha ipnotizzato. Volevo accarezzare il suo panno di velluto e, ancora meglio, sistemare le palle e giocare una partita, ma i miei sogni furono interrotti da mia suocera, che scese improvvisamente dalle sue faccende in cantina. Qualcosa in lei era cambiato, ma non capì subito cosa fosse. Si scoprì che aveva cambiato il suo vestito con una vestaglia ancora più corta, da cui spuntavano le sue belle gambe abbronzate. Inoltre, la donna aveva sciolto i capelli e ora aveva un aspetto piuttosto ambiguo. Sta cercando di sedurmi? Pensai, ma non lo feci capire. Che c'è, Dylan? Adesso i tubi sono nella stanza della piscina? Ho già controllato. Ora, Dylan, ora! Pensi che sia così stupido da non sapere perché vieni qui? Lei sorrise. Non penso nulla. Per l'inattesa pressione di mia suocera ero confusa, quindi capisco perfettamente che il mio maritino preferito pensi che due assunti non siano sufficienti a controllarmi e abbia da tempo messo sotto contratto te per questo ruolo. Ma non te ne faccio una colpa. Al tuo posto farei la stessa cosa. Se sai tutto, Sara, puoi indovinare che probabilmente ci sono telecamere nascoste anche qui. Cercavo di essere fredda. Ci sono. Sono sicuramente qui. E tu sei ancora qui. Non registrano il suono, Dylan. Non preoccuparti. Quindi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Basta che non faccia mosse inutili. Così non ci sospettano di nulla. Di cosa stai parlando? Lo scoprirai. Andiamo di sotto. Di sicuro non ci sono orecchie o occhi in più. Non pensi che le telecamere possano dare l'impressione di essere sospette? Siete qui per controllare i tubi, vero? Faccia pure mi mostri le tubature. Quella donna aveva davvero studiato l'interno della sua casa. Ero sicuro che avrebbe cercato di coinvolgermi in qualche avventura finanziaria o che mi avrebbe cisto di scusarla davanti al marito per via di un prossimo spinello. Ma quello che successe dopo non potevo nemmeno immaginarlo. Appena scendemmo al piano di sotto, mia suocera si girò e mi guardò dritto negli occhi. Il suo sguardo era molto diverso da quello del piano di sopra. C'era un luccichio malizioso in esso. Sara, cosa ti succede adesso? Parliamo onestamente e francamente. Beh, parliamo come se avessi avuto scelta. Sai cosa manca lì a una donna ricca e matura? Immagino che sia così, un amante giovane e bello. A queste parole, mia suocera mi passò il suo dito curato sul petto. E non hai paura di essere smascherata dal tuo geloso marito? Cercavo ancora di sembrare il più disinvolta possibile, ma la situazione stava peggiorando. Certo, non lo vorrei, quindi non posso uscire a divertirmi. Farei la spia e, visto che lei è qui ora e su, richiesta personale di mio marito, perché non approfittare di me o della situazione? Chiamatela come volete. Con queste parole, la donna sciolse la cintura della sua vestaglia e questa si staccò. Vidi subito che, sotto di essa, mia suocera era completamente nuda, perché, la sua pelle abbronzata, attirò il mio sguardo verso il basso. E se non volessi, se mi rifiutassi per qualche motivo? Balbettai. Era da tempo che desideravo questa splendida bellezza matura e, prima o poi, l'avrei conquistata anch'io. Non ha scelta, disse la donna con sicurezza e gettò la vestaglia ai suoi piedi. Poi iniziò a togliermi la camicia e i jeans, dicendo sempre, dai, sbrigati, non abbiamo molto tempo. Ma non potevamo completare questo processo in tempi brevi. Decisi di trarre il massimo beneficio e piacere da questa situazione. Anche mia suocera non era rimasta indietro, trasformandosi in un attimo in una tigre insaziabile. Quando uscimmo dal seminterrato, ci ricordammo a mala pena che dovevamo vestirci e riordinarci. Allora, la prossima volta che verrete a controllare le tubature, mi chiese la donna con nonchalance. Vi è piaciuta questa storia? Fateci sapere nei commenti cosa vi è piaciuto. Abbonatevi al nostro podcast di racconti. Inoltre, non dimenticate di mettere mi piace e di suonare la campanella per non perdere altre storie interessanti. Ciao a tutti! Benvenuti nel canale Confessioni Interessanti. Io e mio suocero siamo partiti per un viaggio di lavoro. In realtà si trattava di un evento frequente, ma questa volta l'ho ricordato a lungo. Parliamo di tutto con ordine. Sono stato fortunato ad avere parenti da parte di mia moglie. Non erano, per usare un eufemismo, poveri. Sono stato fortunato perché mia moglie non era esigente nei confronti della mia borsa e perché, grazie a mio suocero, sono riuscito a ottenere un lavoro piuttosto prestigioso e ben pagato. Probabilmente vi chiederete cosa ci trovi in me una ragazza di una famiglia ricca che praticamente non conosce i problemi economici. Io stesso non lo so. Forse non sono una persona cattiva e di bell'aspetto, senza falsa modestia. Nella mia vita passata lavoravo in un fitness club come master trainer, dove di fatto ho conosciuto la mia futura moglie. Per molto tempo l'ho allenata prima in palestra, poi l'allenamento è diventato ancora più fitto e intenso, così abbiamo iniziato a saltare le lezioni insieme e a tenerci in forma a letto. Ma la mia storia non riguarda mia moglie e nemmeno mio suocero, bensì mia suocera. A quanto pare, da giovane era proprio come mia moglie, una ragazza bella e semplice, solo che non era nata in una famiglia ricca e aveva sposato con successo un gangster di successo che molto presto si è ravveduto. Ha legalizzato la sua attività ed è sopravvissuto ai duri anni 90. Il suocero è cambiato da allora, ma la suocera no, è rimasta quella sciocca ragazza di 20 anni che, in un attimo, è diventata ricca. Solo che ora, nel quinto decennio di vita, non si era ancora svegliata. Non aveva imparato a gestire correttamente il denaro, ma era rimasta la stessa spettacolare bellezza. Sapeva come prendersi cura di sé naturalmente, ma non c'è da stupirsi se nei saloni di bellezza, nei centri di abbronzatura e in altre istituzioni, spaventose per gli uomini, passava la maggior parte della giornata, mentre il resto del tempo socializzava con gli stessi amici patetici e cercava di convincere il marito a darle più soldi per il suo divertimento. A quanto pare, il suocero era soddisfatto di questo stile di vita. A casa aspettava sempre una moglie soddisfatta con un sorriso artificioso sul volto, che aveva solo bisogno di essere nutrita con il denaro. Aveva scaricato con successo la figlia su un ragazzo poco esigente, cioè me, e lui stesso si godeva il modo di vivere e lo stile della sua vita. L'unica cosa che a volte mi chiedeva di fare era di tenere d'occhio la moglie in sua assenza, affinché non facesse nulla di male. C'erano solo dei precedenti, in cui lei organizzava una festa, nel loro cottage, in cui i suoi amici imbecilli distruggevano mezza casa. Oppure la donna poteva fare una serie di altre stupidaggini che per me, come parente, erano più facili da gestire. E il suo autista e la sua guardia di sicurezza, Sara e io, eravamo in buoni rapporti. Entrambe capivamo perfettamente perché eravamo finite in una famiglia ricca, ma non davamo mai l'impressione di non essere soddisfatte di qualche caratteristica del carattere delle nostre metà. Questo stato di cose andava bene a entrambi e così, ancora una volta, mio suocero, mentre era fuori città, mi chiese di controllare come stava. Come sta mia moglie? Non ha fatto qualcosa nel suo stile? Mi disse. Ogni volta le mie scuse per andare a trovare mia suocera suonavano sempre più ridicole, ma sia che la donna non fosse interessata, sia che credesse a tutte le sciocchezze che mi inventavo al volo. In ogni caso, non c'era alcun problema con queste spiegazioni. E ora, quando feci un cenno alla guardia ed entrai in casa sua, dissi. William ha detto che c'è qualcosa che non va con il vostro tubo in cantina. Mi ha chiesto di dare un'occhiata. Sbottai, non credendo alle mie stesse parole. Ehi, Dylan, certo, entra pure. Tanto mi annoio qui da solo, quindi perché non vai da qualche parte a divertirti. Sono un po' annoiato da tutto. Ho questi che mi seguono dappertutto. La donna fece un cenno in direzione della porta, dietro la quale rimanevano in servizio il suo autista e la guardia. Questo è l'unico posto dove posso rilassarmi, fare quello che voglio, e ho sempre la sensazione che ci siano telecamere nascoste ovunque. Tutto è possibile. Sorrisi e non cercai di dissuadere mia suocera. Vuoi mangiare? Non mi dispiacerebbe. Accettai. Non avevo mai mangiato male in questa casa. Parlammo a lungo di argomenti distratti, dopodiché dovetti ancora fingere di essere molto interessata alle tuba tour del seminterrato. Mi alzai da tavola e scesi le scale. Il seminterrato di questa casa di lusso era a due livelli. Al primo c'erano le sale di intrattenimento, una sala da biliardo, un tavolo per il poker e altri giochi d'azzardo e persino un mini cinema. Il locale caldaia e gli altri impianti fognari erano ancora più in basso, ma anch'essi erano tenuti completamente puliti e il mio telefono e brontolai. Qui non c'era segnale, il che significava che avrei dovuto annoiarmi per circa dieci minuti senza internet. Dovevo almeno far finta di controllare qualcosa, ma dopo cinque minuti non ce l'ho fatta più e sono salita. La vista dello splendido tavolo da biliardo mi ha ipnotizzato. Volevo accarezzare il suo panno di velluto e, ancora meglio, sistemare le palle e giocare una partita, ma i miei sogni furono interrotti da mia suocera, che scese improvvisamente dalle sue faccende in cantina. Qualcosa in lei era cambiato, ma non capì subito cosa fosse. Si scoprì che aveva cambiato il suo vestito con una vestaglia ancora più corta, da cui spuntavano le sue belle gambe abbronzate. Inoltre, la donna aveva sciolto i capelli e ora aveva un aspetto piuttosto ambiguo. Sta cercando di sedurmi? Pensai, ma non lo feci capire. Che c'è, Dylan? Adesso i tubi sono nella stanza della piscina? Ho già controllato. Ora, Dylan, ora! Pensi che sia così stupido da non sapere perché vieni qui? Lei sorrise. Non penso nulla. Per l'inattesa pressione di mia suocera ero confusa, quindi capisco perfettamente che il mio maritino preferito pensi che due assunti non siano sufficienti a controllarmi e abbia da tempo messo sotto contratto te per questo ruolo, ma non te ne faccio una colpa. Al tuo posto farei la stessa cosa. Se sai tutto, Sara, puoi indovinare che probabilmente ci sono telecamere nascoste anche qui. Cercavo di essere fredda. Ci sono. Sono sicuramente qui e tu sei ancora qui. Non registrano il suono, Dylan. Non preoccuparti. Quindi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo. Basta che non faccia mosse inutili. Così non ci sospettano di nulla. Di cosa stai parlando? Lo scoprirai. Andiamo di sotto. Di sicuro non ci sono orecce o occhi in più. Non pensi che le telecamere possano dare l'impressione di essere sospette. Siete qui per controllare i tubi, vero? Faccia pure mi mostri le tubature. Quella donna aveva davvero studiato l'interno della sua casa. Ero sicuro che avrebbe cercato di coinvolgermi in qualche avventura finanziaria o che mi avrebbe cisto di scusarla davanti al marito per via di un prossimo spinello. Ma quello che successe dopo non potevo nemmeno immaginarlo. Appena scendemmo al piano di sotto, mia suocera si girò e mi guardò dritto negli occhi. Il suo sguardo era molto diverso da quello del piano di sopra. C'era un luccichio malizioso in esso. Sara, cosa ti succede adesso? Parliamo onestamente e francamente. Beh, parliamo come se avessi avuto scelta. Sai cosa manca lì a una donna ricca e matura? Immagino che sia così, un amante giovane e bello. A queste parole mia suocera mi passò il suo dito curato sul petto. E non hai paura di essere smascherata dal tuo geloso marito? Cercavo ancora di sembrare il più disinvolta possibile, ma la situazione stava peggiorando. Certo, non lo vorrei, quindi non posso uscire a divertirmi. Farei la spia e visto che lei è qui ora e su richiesta personale di mio marito, perché non approfittare di me o della situazione. Chiamatela come volete. Con queste parole la donna sciolse la cintura della sua vestaglia e questa si staccò. Vidi subito che sotto di essa mia suocera era completamente nuda, perché la sua pelle abbronzata attirò il mio sguardo verso il basso. E se non volessi, se mi rifiutassi per qualche motivo. Balbettai. Era da tempo che desideravo questa splendida bellezza matura e prima o poi l'avrei conquistata anch'io. Non ha scelta, disse la donna con sicurezza e gettò la vestaglia ai suoi piedi. Poi iniziò a togliermi la camicia e i jeans, dicendo sempre, dai sbrigati, non abbiamo molto tempo. Ma non potevamo completare questo processo in tempi brevi. Decisi di trarre il massimo beneficio e piacere da questa situazione, anche mia suocera non era rimasta indietro, trasformandosi in un attimo in una tigre insaziabile. Quando uscimmo dal seminterrato, ci ricordammo a mala pena che dovevamo vestirci e riordinarci. Allora, la prossima volta che verrete a controllare le tubature, mi chiese la donna con nonchalance. Vi è piaciuta questa storia? Fateci sapere nei commenti cosa vi è piaciuto. Abbonatevi al nostro podcast di racconti, inoltre non dimenticate di mettere mi piace e di suonare la campanella per non perdere altre storie interessanti. A presto! E di nuovo il Nirvana ci avvolse in una spirale che cresceva e cresceva fino a esplodere in un bagliore di luci che illuminava ogni cosa sul suo cammino. L'unica cosa che riuscivo a percepire erano i suoni ritmici dei nostri cuori che battevano in sincronia con i nostri sentimenti. Tutto sembrava giusto, era bello. In quei momenti non mi importava di nulla, avevo dimenticato la persona che ero, l'uomo che ero in quell'ufficio. Lì contava solo ciò che univa me e la mia bella segretaria in un amore profondo e selvaggio. «Ancora uno?» chiese lei con un tocco scherzoso. Mi ricomposi e la guardai, cercando di capire cosa stesse succedendo. Isabella era giovane e dal modo in cui aveva gestito la situazione si capiva che non aveva molta esperienza in questo campo. L'orgoglio mi fece cedere senza pensarci due volte, anche se mi sentivo sfinito ed estremamente soddisfatto. Ma una volta ricominciato, i nostri sentimenti ci hanno fatto agire con attenzione e dedizione. Fu così che la accompagnai di nuovo in una spirale di sensazioni che ci univa. Mi sentivo felice e soddisfatto e la mia mente stava già programmando il nostro prossimo incontro. Non volevo tornare a casa né pensare al futuro. Riuscivo a pensare solo al presente, a quello che finalmente era successo con Isabella e a quanto l'avevo desiderato. Si preparò in silenzio, nascondendo per un attimo il viso. Ero sorpreso, ma non ci feci caso. «Posso andare?» chiese guardandomi con la coda dell'occhio. Il suo tono di voce non rivelava molto. Così risposi «sì». Fui sorpreso dal suo comportamento, ma in quel momento non ci pensai più di tanto. Solo quando è uscita dall'ufficio, ho capito che cosa aveva insinuato la sua domanda. Si era comportata come se il nostro incontro facesse parte del suo lavoro, come se non significasse nulla. Ma la verità era che l'avevo desiderato e non avevo mai pensato di approfittare della nostra posizione. La rincorsi e la trovai alla sua scrivania, mentre raccoglieva la borsa. Quando mi vide arrivare, la sua espressione mi disse tutto quello che volevo sapere. Credeva davvero che il nostro incontro non significasse nulla. «Non era come pensi», cominciai senza fiato. «Mi piaci, ma ci devono essere dei ma?» «Non possiamo essere semplicemente felici», chiesi. Non sembrava convinta delle mie parole, mentre abbracciava la borsa al petto in cerca di conforto. «Sono consapevole che il nostro non ha futuro», disse dopo un minuto. «Sei sposato», le dissi in un sussurro. «Ma lei lo sapeva già. Non l'ho mai nascosto». «È sbagliato», disse. «I nostri non dovrebbero esserlo. Io sono sposato. E allora cosa facciamo? La facciamo finita quando è solo all'inizio». A quel punto mi sentivo così devastato che non mi interessava pregarla. La amavo ed ero disposto a dimostrarglielo. «Come posso fidarmi di te?» domandò accigliata. «Come faccio a sapere che non farai lo stesso con me in futuro?» «So che è stato sbagliato», risposi imbarazzato. «Lo sai, ma questo non ti ha impedito di stare comunque con me», ribatte lei con un tono pungente. «Lo capisco», confessai. «Non sono adatto a te, Isabella. Sono sposato e molto più vecchio. Tu meriti qualcuno che possa offrirti di più». Lei prese atto delle mie parole e, mentre si preparava ad andarsene, fece un passo decisivo che io non riuscivo a fare non dopo gli eventi che si erano svolti nel mio ufficio. «Mi dimetto, signor Andrew. È stato un piacere lavorare con lei. Grazie di tutto», pronunciò senza che il sorriso le raggiungesse gli occhi. Nonostante il mio turbamento interiore, rimasi risoluto mentre lei se ne andava, senza avere il coraggio di inseguirla, di cercarla. Dopo quell'incontro, Isabella sparì dalla mia vista. Era entrata nella mia vita, sconvolgendo tutto, rimodellando i miei principi e le mie prospettive. Mi ero trasformato in un uomo che faticavo a riconoscere, eppure avevo accolto il cambiamento. Sebbene desiderassi la sua presenza, capii che la sua decisione era quella giusta. Senza il suo passo indietro, senza tagliare i ponti, non avrei mai trovato la forza di farlo io stesso. Non prima che fosse troppo tardi. Non prima che fosse stato fatto un danno irreparabile. Isabella aveva contemplato il nostro futuro, un futuro destinato a rimanere una mera fantasia, legato ai miei voti di ruolo e al suo potenziale giovanile. Avrei ostacolato il suo progresso e lei avrebbe causato la mia rovina. Mi aggrappai alla speranza che il destino potesse un giorno riunirci, permettendomi di assistere alla donna che sarebbe diventata. Fino ad allora rimasi con mia moglie, anche se il nostro legame si era affievolito. È rimasta una brava persona, meritevole di sostegno. Ora vi chiedo, avreste lasciato andare l'amore della vostra vita? Condividete i vostri pensieri su cosa avreste fatto se vi foste trovati nelle mie condizioni. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale. Grazie per il vostro sostegno. Quando tutti i colleghi se ne erano andati con la scusa di dover finire una relazione, lei rimase nel mio ufficio dopo le cinque. Quando ci siamo accorti che l'ufficio era già vuoto, abbiamo dato sfogo ai nostri sentimenti sulla scrivania dove avevamo lavorato tante volte. Ci siamo abbandonati all'amore in modo appassionato e accelerato, senza lasciare spazio al respiro. Tutto era stato naturale, senza paura o pressione. Isabella mi aveva regalato uno dei momenti più belli della mia vita, soprattutto perché la chimica che avevamo era qualcosa che non avevo mai sperimentato. La sua abilità con la bocca era promettente. Con mia moglie non era mai stato così. Fino a pochi mesi fa ero rimasto fedele alla mia identità di uomo responsabile, di marito devoto, di padre dedito e di lavoratore impegnato che dava il massimo. Tuttavia, tutto ha subito una svolta quando ho incrociato Isabella, che presto sarebbe diventata la mia segretaria. Tutto ebbe inizio un lunedì dopo le dimissioni della mia segretaria di lunga data, la signora Catherine, con la quale avevo lavorato a stretto contatto per otto anni. La sua partenza ha lasciato un vuoto significativo, perché non era una semplice segretaria, ma era diventata il mio indispensabile braccio destro. Per giorni ho vagliato numerosi candidati, tutti raccomandati dall'ufficio risorse umane, che vantavano qualifiche e apparenze impressionanti, ma che non mi convincevano per le loro credenziali. Quello che cercavo era qualcuno in grado di sostituire la signora Catherine, un'impresa che sembrava sempre più ardua fino a quel fatidico lunedì. Una telefonata di Carl, il responsabile delle assunzioni, mi segnalò un candidato promettente in attesa di un colloquio. Pur essendo scettica sul fatto che qualcuno potesse eguagliare il calibro della signora Catherine, accettai comunque di incontrarla. Nel momento in cui entrò nella stanza, rimasi colpito. La sua bellezza era innegabile e, anche se all'inizio fui colta di sorpresa, mi resi subito conto che c'era molto di più di quanto sembrasse. Vestita con un abito blu-nevi che accentuava la sua figura, con una cascata di capelli ramati e una spruzzata di lentiggini sulla pelle, emanava sicurezza. Tuttavia erano i suoi occhiali, che nascondevano un paio di penetranti occhi verdi, e le sue labbra dipinte di cremisi, che mi affascinavano veramente. Immediatamente mi si strinsero i palmi delle mani. Era evidente che aveva fatto uno sforzo deliberato per lasciare un'impressione, e in questo era riuscita oltremisura. Nel momento in cui si presentò e mi disse il suo nome, intuì che Carl aveva notato la stessa cosa che avevo notato io, e per questo aveva insistito perché la intervistassi. Mentre le facevo alcune domande di routine e fingevo di leggere il suo curriculum, dalle sue risposte ho imparato a conoscere un po' di più questa donna enigmatica. Si chiama Isabella Evans e ha 26 anni. Ha studiato economia aziendale, ma voleva fare esperienza in altri settori, così, quando ha saputo che avevamo bisogno di un assistente, non ha esitato a candidarsi. Inoltre, mentre parlava della sua esperienza, analizzavo altre cose di Isabella, come il fatto che non portava la fede. Era molto educata e la sua immagine sicura non corrispondeva al tono di voce dolce e docile con cui parlava. Per diversi minuti è rimasta seduta con la schiena dritta e non ha mai smesso di muovere una gamba. Dopo alcuni minuti di colloquio, ho potuto dedurre diverse cose su di lei. Era una novizia sul posto di lavoro, ma nonostante la sua timidezza, rispondeva sempre in modo assertivo e conciso. Sembrava determinata, perché non si aspettava un no com risposta. Mi piacerebbe pensare che le sue capacità e le sue prestazioni al colloquio fossero sufficienti. A convincermi ad accettarla, ma il giorno in cui venne al lavoro, per la prima volta, e la trovai dietro la scrivania, con un tablet in mano e un sorriso gentile, capì che il peso della mia decisione era ricaduto sul suo aspetto. Era bella come un fiore, ma non era solo bella. Era sensuale in un modo che catturava lo sguardo. E la cosa peggiore era che non si rendeva conto dell'effetto che aveva sugli altri, soprattutto per quanto riguardava lo sguardo maschile. Arrivava sempre ben vestita, profumata e con un buon atteggiamento. In una settimana si è adattata alle dinamiche dell'ufficio, si è fatta un paio di amici che ovviamente flirtavano ed è stata disposta a rimanere fino a tardi una sera in cui abbiamo dovuto sistemare delle pratiche all'ultimo minuto. Dopo tre mesi di lavoro senza problemi, Isabella fu ufficialmente assunta. Sapevo che parte della mia preoccupazione era dovuta al fatto che non riuscivo a nascondere quanto mi piacesse. Ero felice per lei perché sapevo che aveva una grande opportunità davanti a sé. Questo lavoro le avrebbe aperto le porte di incredibili possibilità. Il pensiero di continuare a vedere Isabella mi rendeva taciturno e di cattivo umore per diversi giorni. Per quanto pensassi alla questione, sapevo che il problema non risiedeva nelle sue prestazioni lavorative. Isabella era molto brava e aveva preso il posto della signora Catherine in modo impeccabile. Ero così attratto da lei che a volte le chiedevo di rimanere in ufficio a scrivere rapporti solo per averla vicina. Isabella era nel fiore della sua giovinezza ed era doloroso da vedere. Con un paio di gambe infinite che sembravano incredibili con gonne o abiti lunghi e indossava camicie abbottonate molto strette che facevano poco per nascondere la scollatura, aveva tutto per far impazzire chiunque, anche me, un uomo sposato. Ogni volta che Isabella veniva nel mio ufficio non potevo fare a meno di guardarla, di osservare il movimento sensuale dei suoi fianchi quando camminava, il modo in cui si aggiustava gli occhiali prima di parlare o anche il modo in cui giocava con i capelli quando era nervosa. Non so quando le cose cominciarono a cambiare tra noi, forse quando iniziai a notare che arrossiva in mia presenza. O forse fu durante l'ultimo trimestre dell'anno quando dovevamo stare alzati fino a tardi e durante quelle ore parlavamo così tanto e lei sembrava sempre triste quando era ora di andarsene. Quel periodo era stato duro per il lavoro, ma la presenza di Isabella rendeva ogni sforzo degno di nota. Ma il punto di rottura è stato quando l'ho sentita parlare al telefono con un uomo e, in un impeto di gelosia, mi sono lamentata con lei perché usava le ore di lavoro per questioni personali e che, se voleva discutere di qualcosa con il suo ragazzo, avrebbe dovuto farlo quando se ne andava. Lei sembrò sorpresa naturalmente e, quando mi venne in mente la calma, rimasi anch'io colpita dal mio comportamento. Non ne sopportavo più il bisogno, non volevo più ammirare la sua bellezza da lontano e, sebbene all'inizio pensassi che fosse solo un capriccio del momento, col tempo tutto cambiò. I miei sentimenti e i suoi sbocciarono rapidamente ma con forza. Isabella mi corrispondeva allo stesso modo, se non peggio. Quando eravamo soli tutto era perfetto e, a poco a poco, cominciò a manifestare liberamente i suoi sentimenti. All'inizio si trattava di biglietti con messaggi sdolcinati in cui diceva che le mancavo e che desiderava che arrivasse la notte per poterci vedere, ma poi ha colto ogni occasione per farmi sapere quanto ci teneva. Le sue dimostrazioni d'amore erano sempre più frequenti e io ero contento dei nostri progressi. Ma per qualche motivo non lasciava mai che le cose degenerassero. Non volevo che pensasse che la volessi solo per quello perché mi sentivo davvero innamorato. Solo che non riuscivo a trovare le parole o le azioni per dimostrarlo. In più ero sposato e stavo affrontando i miei problemi a casa per prendere una decisione radicale. Ma quello che provavamo era già difficile da controllare, così quel bisogno ci portò a rischiare una sera nel mio ufficio, quando tutti i colleghi non c'erano, con la scusa che dovevamo finire una relazione. Lei rimase nel mio ufficio dopo le 17 ezee e quando ci accorgemmo che l'ufficio era già vuoto, demmo sfogo ai nostri sentimenti sulla scrivania dove avevamo lavorato tante volte. Ci siamo abbandonati all'amore in modo appassionato e accelerato, senza lasciare spazio al respiro. Tutto era stato naturale, senza paura o pressione. Isabella mi aveva regalato uno dei momenti più belli della mia vita, soprattutto perché la chimica che avevamo era qualcosa che non avevo mai sperimentato. La sua abilità con la bocca era promettente. Con mia moglie non era mai stato così. Isabella era alle prime armi, ma anche se aveva ancora molta strada da fare, aveva l'entusiasmo necessario per esibirsi come una campionessa e questo era qualcosa che ammiravo. Quando tutto è finito sembrava intrappolata in un sogno da cui non riusciva a svegliarsi. Per me è stata una visione impareggiabile. La mia mente si è spenta per qualche minuto e quando sono tornata alla realtà la felicità mi ha fatto sorridere. È stato incredibile, sussurrò Isabella con un sorriso soddisfatto e io ero d'accordo con lei. Non era stato solo incredibile, ma magico. Era stata eccellente, molto più di mia moglie, molto più delle amiche che avevo avuto quando ero single. Lo è stato, dissi ricambiando il sorriso, ma potrebbe essere molto meglio se tu fossi più disponibile. Per me non era abbastanza. Volevo di più. L'attrazione che provavo per lei mi stava consumando le ossa e non avevo più la forza di fermarmi. Ora che avevo quel frutto proibito, tutto quello che volevo era scoprire di più, imparare tutto su Isabella, i suoi punti sensibili, il modo in cui impazzisce, il ritmo che la porta a raggiungere la felicità assoluta, per avere la capacità di realizzare i miei sogni più profondi e accompagnare Isabella a raggiungere i suoi. Salve a tutti! Benvenuti al canale Confessioni Interessanti. Prima di cominciare, sarebbe davvero gentile da parte vostra iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video e lasciare un commento qui sotto. Questi semplici gesti significherebbero molto per il futuro di questo canale e sarebbero una gratificazione per l'impegno che ci metto ogni giorno. Ora, senza perdere altro tempo, iniziamo. Sono un uomo di 38 anni e mi sono sposato con la mia moglie, una donna di 33 anni, due anni fa. Eravamo fidanzati da tre anni e, sebbene fossi meno interessato al matrimonio di lei, ho accettato per renderla felice. Circa un anno fa abbiamo deciso di provare ad avere un bambino, su insistenza di mia moglie. Durante questo periodo abbiamo incontrato molte difficoltà nel concepire, tanto che la mia salute mentale ne ha risentito. Pochi giorni dopo il test, i medici mi hanno comunicato che ero sterile, una notizia che mi ha spezzato il cuore. Sebbene diventare padre non fosse la mia priorità, avevo iniziato a immaginare la gioia di essere un genitore e desideravo davvero diventarlo. Scoprire che non avrei mai potuto realizzare questo sogno è stata la notizia più devastante per me in quel momento. Ma la situazione stava per peggiorare ulteriormente. Stavo cercando di trovare il coraggio di confessare a mia moglie che ero io il motivo per cui non riuscivamo ad avere figli, ma temevo la sua reazione. Lei era stata così ostile nei confronti miei che non potevo immaginare come avrebbe reagito quando avesse scoperto che probabilmente non sarebbe mai successo con me. Quindi, dopo aver ricevuto i risultati dei miei esami, ho aspettato diversi giorni prima di dirle la verità, ma è stata lei a sorprendermi. Qualche giorno dopo aver scoperto la sua gravidanza, mi ha fatto sedere e mi ha annunciato che aveva delle notizie molto importanti da condividere con me. Ero estremamente spaventato, pensavo che avesse scoperto la mia sterilità, ma no, voleva solo dirmi che finalmente era incinta. Ero sconvolto. Dentro di me sentivo un mix di emozioni, ma per fortuna lei non sapeva cosa provavo davvero e ha iniziato a festeggiare immediatamente. Il giorno successivo ho ripetuto gli esami per confermare la mia sterilità e ancora una volta ho ottenuto gli stessi risultati. Ero confuso. Se io non ero il padre, allora mia moglie mi stava tradendo. Poiché i trattamenti medici necessari per concepire in modo artificiale erano costosi. E, dato che ero l'unico a portare a casa lo stipendio, mia moglie non avrebbe potuto permetterseli senza chiedermi i soldi in anticipo. Quindi era evidente che stava tradendo. L'intera idea era così strana e spaventosa che non ho fatto nulla sal riguardo per alcuni giorni, mentre mia moglie organizzava una grande festa per annunciare la sua gravidanza. Lei appariva genuinamente felice, mentre io ero totalmente devastato, ma non potevo mostrarlo perché dovevo affrontare tutta questa situazione da solo. Non ho nemmeno confidato alla mia famiglia cosa stava succedendo e ho tenuto tutto sotto controllo perché era troppo scomodo e personale per essere condiviso con qualcuno. Non potevo neanche condividere i miei pensieri con mia moglie perché, per un verso, era passato troppo tempo e, per un altro, desideravo scoprire chi fosse effettivamente il padre del suo bambino, poiché se l'avessi affrontata avrebbe potuto semplicemente andarsene e io non avrei mai saputo la verità. Per fortuna ho scoperto tutto il giorno della festa stessa. Numerose persone hanno partecipato all'evento, tra cui le nostre famiglie, i nostri amici e alcuni dei miei colleghi di lavoro. Abbiamo anche invitato un vicino che risiede proprio di fronte a noi. Questo vicino, un uomo di 27 anni, è sicuramente più affascinante di me, senza dubbio, e probabilmente più bello della maggior parte delle persone, considerando che è un modello che sta ancora cercando di farsi un nome nel mondo della moda. Più vicino alla città, perché la sua famiglia abita molto lontano, mia moglie ha sempre provato simpatia per questo ragazzo e preparava i pasti per lui e sua zia quando si era trasferito. All'inizio veniva anche a cena da noi di tanto in tanto e parlavamo del suo lavoro. È una persona colta e ben educata, nonché un laureato in letteratura come mia moglie. Hanno molti interessi in comune e hanno subito stretto un legame la prima volta che si sono incontrati. Non avevo nulla in contrario a questo ragazzo, perché sembrava abbastanza gentile e avevo fiducia nella mia moglie. Tuttavia, quando è entrato in casa il giorno della nostra festa e ho visto gli occhi di mia moglie illuminarsi, ho capito che qualcosa era cambiato. Lei ha fatto di tutto per raggiungerlo appena è entrato e lo ha abbracciato più a lungo degli altri ospiti. Nessuno sembrava accorgersene, ma io sì e ho potuto percepire che tra loro stava succedendo qualcosa, quindi ho deciso di scusarmi per andare in bagno, ma invece sono andato in camera da letto e ho aperto il laptop di mia moglie. Sono riuscito a verificare il suo cellulare mentre dormiva qualche giorno dopo avermi detto di aspettare un bambino, ma non ho trovato nulla di strano. Accedere al suo computer portatile si è rivelato più complicato perché ogni volta che ero a casa, lei era costantemente impegnata a guardare o scrivere qualcosa su di esso. Ogni volta che chiedevo cosa stesse facendo, lei girava lo schermo lontano da me e mi diceva che stava lavorando al suo libro. Una cosa che faceva da mesi. Io rispettavo la sua privacy e credevo davvero che stesse scrivendo un libro. Ora però le cose erano cambiate e ero abbastanza sicuro che non ci fosse alcun libro, ma solo una scusa per nascondere quello che c'era nel suo laptop. Per fortuna non c'era nessuna password o qualcosa del genere, quindi potevo accedere facilmente. Dopo un po' di ricerca ho trovato un altro account email oltre a quello vero. Sono passato a quello e ho controllato le email inviate e ricevute. Le ho lette e contenevano dichiarazioni d'amore da parte di mia moglie e anche dell'altro ragazzo, il nostro vicino. Riconoscevo l'indirizzo email perché usava il suo vero nome e nelle email più recenti lei gli diceva di essere incinta. Lui non era contento e sembrava arrabbiato, quindi la corrispondenza si era interrotta per un po', probabilmente perché voleva chiudere la relazione, ma mia moglie non voleva lasciarlo andare. Tra tutte le email che ho ricevuto ce n'era una in particolare. In quella email mia moglie mi diceva di aver parlato con un'amica avvocato e che avrebbe chiesto il divorzio subito dopo la nascita del bambino. Il suo piano era quello di ottenere sia gli alimenti che il sostegno per il bambino, in modo da poter partire con il nostro vicino dopo qualche mese e vivere felici e contenti. Mi sono sentito disgustato quando ho letto quella email e ancora adesso provo una sensazione di nausea ogni volta che ci penso. Ho cercato di scuotermi di dosso quell'emozione e sono tornato al lavoro. Ho scattato diverse foto dell'email sul mio telefono prima di spegnere il computer e rimetterlo al suo posto. Non ero tanto preoccupato per il tradimento quanto disgustato dal fatto che mia moglie stesse cercando di ingannarmi per ottenere un figlio e poi farmi pagare tutti quei soldi solo per finanziare il suo stile di vita da sogno con il suo ragazzo in difficoltà economica. Era davvero un comportamento psicotico. Era così abilmente ingannevole che non avevo sospettato nulla fino a quel momento. La sua felicità era quasi inquietante ma ero così infuriato per tutta quella situazione che avevo deciso di vendicarmi. Avevo scelto di andare avanti e poi colpirla con un colpo a sorpresa, quando meno se lo sarebbe aspettata. Non avrei mai lasciato che se ne andasse senza provare il dolore, il tradimento e la frustrazione che avevo provato quando avevo scoperto la sua disonestà. Chiamatemi folle, ma ho fatto ciò che era necessario. Quindi per i successivi nove mesi ho interpretato il marito e padre perfetto in attesa. È stato difficile sapere che mi stava mentendo costantemente, ma più mentiva e fingeva di essere felice con me, più rafforzava la mia determinazione a portare a termine il tutto. Ho partecipato a ogni visita dal dottore e mi sono assicurato che prendesse tutte le sue vitamine in tempo e sono stato il miglior marito che uno potrebbe desiderare. Poi finalmente, qualche giorno fa, mia moglie è entrata in travaglio. Ero estremamente nervoso, come chiunque sarebbe nella mia situazione, ma ho messo da parte tutto e l'ho portata in ospedale da solo. Avevo già chiamato i suoi genitori, ma non i miei, poiché non volevo che fossero presenti nel caso le cose diventassero troppo drammatiche. Comunque, i suoi genitori hanno dovuto guidare per un'ora per arrivare all'ospedale, quindi abbiamo avuto un po' di tempo da soli e è stato allora che ho scelto di farle cadere la bomba. Una volta che è stata sistemata nella stanza, le ho detto che sarei uscito a chiamare il nostro vicino perché potesse essere lì per lei. Lei sembrava presa alla sprovvista e balbettava un po', mentre diceva che non c'era bisogno di quello e che non voleva uno sconosciuto nella stanza mentre partoriva. Allora le ho sorriso e le ho mostrato i risultati del mio test di fertilità insieme ai documenti per il divorzio che avevo fatto in modo di portare con me quel giorno. Lei ha esaminato tutto ancora confusa, quindi le ho spiegato che non sarei stato in grado di metterla incinta anche se avessi voluto e che il bambino non era mio. Poi le ho parlato delle email che avevo trovato sul suo account super segreto e in quel momento ha finalmente capito cosa stava succedendo. L'espressione sul suo viso era impagabile mentre uscivo e lei lottava per trovare le parole perché è così che batteva forte il mio cuore quando finalmente sono uscito e ho chiamato il nostro vicino per informarlo che mia moglie era in travaglio. Non ho nemmeno aspettato la sua risposta e ho riattaccato il più velocemente possibile. Poi sono salito in macchina e ho aspettato che la famiglia di mia moglie arrivasse. Non appena ho visto la macchina di suo padre arrivare nel vialetto sono scappato il più velocemente possibile. Ho anche spento il telefono per sicurezza e ho guidato per un po' finché non sono arrivato a questo motel fuori città. Avevo già fatto le valigie alcune settimane fa e le avevo nascoste nel bagagliaio della mia auto quindi avevo tutto ciò di cui avevo bisogno con me e non ero stato colto alla sprovvista. Ho passato il resto della giornata a guardare la televisione, a bere birra e a fare tutto il possibile per non pensare a nulla. Quella notte ho dormito abbastanza pacificamente sapendo che finalmente ero fuori da quella situazione svegliato e finalmente ho riacceso il telefono. Naturalmente c'erano centinaia di messaggi da parte di mia moglie e del nostro vicino, nessuno dei quali ho nemmeno aperto, ma ho letto alcuni messaggi che i miei genitori e mio fratello mi avevano inviato. Immagino che mia moglie li avesse contattati quando non era riuscita a raggiungermi, quindi ho deciso di richiamare i miei genitori e parlare con loro. Gli ho detto che sarei tornato a casa tra poco e ho anche chiesto loro di far venire mio fratello, così avrei potuto spiegare l'intera situazione a loro perché si meritavano una spiegazione per quello che stava succedendo. Sono andato a casa dei miei genitori e mio fratello era già lì. Tutti sembravano confusi e un po' irritati, il che era naturale perché per loro avevo appena perso la nascita di mio figlio e li avevo fatti perdere anche la nascita del loro nipote, ma li ho fatti sedere e ho spiegato tutta la storia a loro e ho spiegato loro le mie ragioni per quello che avevo fatto e, quando ho finito di raccontarla, erano senza parole. Ero pronto a essere bombardato di domande e accuse, ma non è successo nulla del genere. Tutto quello che mio padre ha detto è stato che sperava che non succedesse niente di peggio e, se gli altri avevano altri commenti, non hanno detto nulla, quindi era tutto tranquillo da quella parte. È passata qualche giorno e, mentre la mia famiglia non ha detto molto, mia moglie ha fatto di tutto per accusarmi di averle rovinato l'esperienza di diventare madre per la prima volta. Ha cercato di chiamarmi e mandarmi messaggi da allora, ma non ho risposto a nulla. Perfino il nostro vicino mi ha mandato un messaggio poche ore fa dicendo che mia moglie era davvero sconvolta e che avremmo dovuto mettere da parte le nostre differenze per amor suo e almeno cercare di sistemare le cose con lei. Non posso credere alla sfacciataggine di queste persone che ancora cercano di parlarmi e far sembrare che questo sia solo una piccola cosa su cui mi sto arrabbiando. Ha menzionato un paio di altre cose nel suo messaggio, come il fatto che mia moglie aveva iniziato a innamorarsi di nuovo di me durante la gravidanza, il che era stato uno shock anche per loro. Quindi avrei almeno dovuto provare a dare una seconda possibilità al nostro matrimonio. Io chiamo queste cazzate perché se si fosse innamorata di nuovo di me, allora perché il nostro vicino era ancora in gioco? Non so perché pensano che io sia così stupido. Mia moglie è sconvolta, ma non c'è niente che io possa fare al riguardo. È soprattutto arrabbiata perché sapeva tutto fin dall'inizio, ma avevo scelto di stare con lei e sopportare tutto questo teatrino e mi ha accusato di averle mentito. Aggiornamento 1 È passata quasi una settimana dalla nascita del bambino e sto ancora soggiornando in una stanza d'albergo. Non sono ancora stato a vedere mia moglie e non ho intenzione di andarci. Lei continua a mandarmi messaggi e chiamarmi, ma non so perché, dato che ho reso abbastanza chiaro che non sono interessato a parlarle o a sentire quello che ha da dire. Non l'ho ancora bloccata, ma ho bloccato il nostro vicino, dato che si era preso la briga di mandarmi un messaggio per ricordarmi che mia moglie aveva ancora speranze e voleva che tornassi da lei. Sono sicuro al 100% che l'unico motivo per cui è ancora con lei e cerca di farmi perdonare è in modo che lei possa ottenere qualcosa dal divorzio e dagli alimenti, dato che entrambi sono praticamente disoccupati. Mia moglie era una casalinga, cosa che ho apprezzato e rispettato, ma non stava solo a casa a fare le faccende. Stava anche tradendo dietro le mie spalle, il che era imperdonabile. Non sono stato io a suggerire che lei lasciasse il lavoro dopo il matrimonio. Infatti ero piuttosto supportivo quando stavamo uscendo insieme e lei lavorava, ma è stata lei a dire che voleva smettere e prendersi cura della nostra casa, quindi non mi sono opposto perché guadagnavo abbastanza bene. Comunque sono abbastanza sicuro che il mio avvocato riuscirà a farmi evitare di pagare gli alimenti una volta che potremo dimostrare che mi stava tradendo, cosa che spero sarà facile. Per quanto riguarda il nostro vicino, lui continua a lottare per trovare ingaggi ben pagati come modello, quindi gestire le sue spese, quelle di mia moglie e un bambino in più, sarà quasi impossibile per loro, anche con tutti i loro soldi messi insieme, quindi buona fortuna a loro. Sono solo grato di essere fuori da questo pasticcio e di non dovergli dare nulla, nemmeno la mia attenzione. Spero solo che mia moglie si renda conto di ciò e non sprechi più il mio tempo contestando il divorzio. Spero che non lo faccia, ma dato il completo mancanza di cervello potrebbe anche farlo. Quindi sono preparato anche a questo. Le foto delle email scambiate sul suo account email segreto sono ancora al sicuro sul mio telefono e salvate sul mio laptop, quindi non sono troppo preoccupato anche se decidesse di cancellare il suo account. Non può cancellare quelle immagini che ho e so che sarò a posto nel peggiore dei casi. Le pagherò gli alimenti, ma almeno non dovrò stare con lei. Dovrebbe considerarsi fortunata che le sto dando tempo per lasciare la nostra casa da sola e non l'ho fatta sfrattare con la forza, dato che la casa è registrata a mio nome. Spero per il meglio ora e forse tutto questo si risolverà abbastanza presto. Aggiornamento 2 Avevo ragione. Mia moglie è un idiota e ha deciso di negoziare, dato che non era contenta dell'accordo che le avevo offerto, che era fondamentalmente solo l'importo che aveva speso durante il corso del matrimonio e anche quello mi sembrava piuttosto generoso. Non capisco nemmeno quale miracolo pensi che accadrà. Ma va bene per lei. Mi ha mandato un messaggio ieri dicendo che aveva liberato la casa oggi e sono tornato felice, pensando che probabilmente si fosse trasferita dai suoi genitori o qualcosa del genere, ma sono rimasto molto deluso nell'apprendere che si era solo trasferita nella casa del nostro vicino di fronte e che avrei ancora dovuto vedere lei e la faccia del suo ragazzo ogni singolo giorno. Ho persino considerato di tornare a vivere in un albergo, ma non l'ho fatto poiché questa era la mia casa e avevo ogni diritto di vivere dove volevo. Non avevo intenzione di fare le valigie e andarmene solo perché avrebbero cercato di farmi sentire a disagio. Mi chiedevo perché mia moglie non fosse andata a vivere con i suoi genitori invece, dal momento che vivere con il nostro vicino avrebbe avuto un impatto negativo sul caso di divorzio e stava solo peggiorando la situazione per se stessa. Ma non ho dovuto pensarci troppo perché mentre scorrevo tutti i messaggi non letti che avevo ricevuto da molte persone fino ad ora, ho notato anche uno da parte del padre di mia moglie. Non avevo risposto a diverse persone che mi avevano mandato messaggi negli ultimi giorni e il suo messaggio era anche andato perso tra questi. Era un lungo testo su quanto fosse dispiaciuto per quello che sua figlia aveva fatto e mi diceva che erano fortemente contrari alle sue azioni. Il padre di mia moglie diceva queste cose, quindi significava molto per me e validava così tanto le mie emozioni che ho quasi pianto, ma ho trattenuto le lacrime. Comunque si scusava per il comportamento di mia moglie e mi diceva che l'avevano tagliata fuori dal momento in cui mi aveva detto che voleva contestare il divorzio. Finora nulla di quello che mia moglie aveva fatto aveva avuto senso per me. Dal momento che tutto quello che aveva fatto alla fine si sarebbe ritorto contro di lei e sicuramente anche qualcuno come lei avrebbe dovuto rendersi conto che era così o era davvero stupida o aveva ancora qualche trucco malato e contorto nella manica. Spero che non sia il secondo, ma non lo metterei oltre a lei. È davvero la peggiore. Questa situazione di convivenza sicuramente porterà a complicazioni e sono sicuro che cercheranno di farmi sentire a disagio o geloso, ma sono determinato a non lasciarli entrare sotto la pelle e provocarmi perché sicuramente useranno tutto ciò contro di me. Considerando tutto sto ancora risparmiando una fortuna dato che non devo vivere in un albergo. È passato un mese da quando sono iniziate le trattative per il mio accordo di divorzio e finora stanno andando male per mia moglie. Sono riuscito a dimostrare che mi stava tradendo e lei ha persino reso il mio lavoro più facile trasferendosi con l'uomo che avevo accusato di avermi tradito, quindi non c'erano dubbi sulla validità delle mie false accuse su come fossi un alcolizzato, il che è anche il motivo per cui ero sterile e quindi aveva avuto una relazione perché, quando stavamo cercando di concepire, ero diventato molto crudele e amaro nei suoi confronti. Ma tutto questo è stato smentito abbastanza facilmente, poiché tutti sapevano che avevo smesso di bere l'anno scorso, quando avevamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino e non avevo più toccato alcol da allora. Ancora una volta non so perché pensasse che avrebbe funzionato ed è stato piuttosto stupido da parte sua. Immagino stesse solo aggrappandosi a un filo, poiché il suo piano iniziale era fallito miseramente e ora era troppo impegnata a essere madre per essere una mente criminale. Era troppo impegnata e il padre di suo figlio era troppo stupido. Quindi eccoli là. Ormai entrambi sappiamo che le probabilità che lei se ne vada con qualsiasi tipo di alimenti sono molto scarse. Immagino che debba aver detto al suo ragazzo, dato che qualche giorno fa è stata cacciata senza cerimonia dalla sua casa con suo figlio. Sì, è vero. Ho sentito un sacco di urla e grida provenire dalla loro casa e poi in pochi minuti ho visto mia moglie e suo figlio essere spinti fuori di casa mentre il padre urlava cose assolutamente disgustose su di lei e la insultava con ogni nome nel libro. Osservavo tutto questo mentre ero nel mio soggiorno e nel momento in cui l'ho visto spingere mia moglie fuori mentre portava il bambino, sono corso fuori per aiutare. Inimicizia a parte, non potevo lasciare che un povero bambino innocente soffrisse per qualcosa che non era nemmeno colpa sua. Entro il tempo che sono arrivato al suo portone, lui aveva già sbattuto la porta mentre mia moglie e suo figlio piangevano entrambi. Ho preso il bambino in braccio e ho afferrato la mano di mia moglie per poterli portare nella mia casa dall'altra parte della strada e poi ho chiamato mio suocero affinché venisse a prenderla. Entro un'ora si è presentato e l'ha portata via ringraziandomi ancora per tutto quello che avevo fatto. Durante quell'ora mia moglie piangeva come una bambina quindi di fatto stavo calmando sia la madre che il bambino da solo. Volevo chiamare anche la polizia ma lei è riuscita a persuadermi a lasciar perdere dato che non voleva più problemi. Si scusava ancora e ancora per tutto ciò che era successo e mi diceva che era stata così disperata di stare con la persona che amava che aveva perso tutto il suo rispetto per se stessa e la sua moralità e ne era davvero dispiaciuta. Mi ha detto che avrebbe accettato qualsiasi cosa accadesse e che non avrebbe negoziato più così il divorzio potrebbe essere finalizzato più velocemente. Suppongo che sia una cosa buona spero che decida di sporgere denuncia alla fine contro questo uomo e che sicuri ma almeno io ho fatto tutto il possibile e sono stata una persona per bene e non rimpiango nulla nonostante le circostanze difficili. Mi sento sollevato di aver agito con integrità e di aver fatto tutto il possibile per proteggere un innocente in un momento di bisogno. Ora con la situazione leggermente più tranquilla e il divorzio in via di finalizzazione spero solo che mia moglie possa riflettere sulle sue azioni e trovare la forza di ricostruire la sua vita in un modo più onesto e rispettoso non solo verso gli altri ma anche verso se stessa. Nel frattempo io continuerò a concentrarmi sulla mia guarigione e sul mio futuro sperando che con il tempo possiamo entrambi trovare pace e felicità seppur separatamente. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!